Buonasera a tutti e benvenuti. Faccio questo video come aggiornamento sia alla questione dell'inflazione che ormai è diventata una serie di questi video ma che secondo me è una problematica veramente molto importante per ognuno di noi non solo come investitori ma anche proprio come consumatori e quindi comunque nella nostra economia domestica nella nostra finanza personale ma anche tutta una serie di problematiche che l'inflazione unita a tutta una serie di altre distorsioni del mercato rischia di causare e in particolare proprio la scarsità di beni e di servizi disponibili. Vedremo ecco diciamo nel corso del video come e perché. Alla fine cercherò anche di dare dei consigli anche se in questo caso diciamo si tratta un po' meno di investimenti e un po' più magari così di organizzazione personale in base però a quello che ognuno di noi può fare insomma nella personale situazione quindi ovviamente saranno dei consigli un po' più generici. Diciamo l'ispirazione di questo video è arrivata intanto dagli ultimi dati sia sull'inflazione italiana che sull'inflazione europea che sta salendo di mese in mese smettendo quella che era la narrazione iniziale non so se ricordate di qualche mese fa in cui si diceva sia negli Stati Uniti e poi anche in Europa che il livello di inflazione era salito molto rapidamente ma semplicemente perché era l'effetto di quello che era accaduto a febbraio, marzo e aprile 2020 quindi si diceva c'era stato un crollo dell'economia per tutte le chiusure, tutti i problemi gravissimi che c'erano stati, di paralisi dell'economia quindi era crollato il prodotto interno lordo, la domanda ci fu un picco diciamo dell'inflazione che già era bassa, si andò in deflazione e quindi è ovvio partendo dal basso se poi torniamo a dei livelli normali che in percentuale magari un 4 un 5 per cento ma la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea dicevano appunto che questa inflazione sarebbe stata transitoria sono però passati mesi e non è transitoria insomma rimane a livelli molto sostenuti almeno per gli standard a cui eravamo abituati parliamo ecco di addirittura deflazione in Europa, in Italia o comunque livelli molto molto bassi quando le banche centrali hanno così come obiettivo ideale il 2 per cento quindi livelli per esempio del 5,4 per cento negli Stati Uniti e appunto negli ultimi dati del 3,4 per cento in Europa e del 2,5 per cento in Italia sono molto alti, avevamo visto anche nei precedenti video questo diciamo problema secondo me è molto sottovalutato dagli investitori dagli stessi cittadini e questo diciamo è un problema che forse riguardava più che altro magari i nostri genitori, i nostri nonni abituati a un'inflazione degli anni 70 e quindi o addirittura del dopoguerra la iperinflazione che ci fu e in quel caso quindi è ovvio che erano nate da lì le abitudini di investire subito in beni reali, immobili, terreni, oggetti anche, c'era la moda dell'antiquariato, dell'arte, dei quadri, dei gioielli, pensati proprio come riserve di valore oltre che come oggetti belli insomma da possedere e questo poi sta continuando anche oggi in realtà sta riprendendo probabilmente grazie diciamo a questa voglia sia di speculare di investire sull'aumento di prezzo degli oggetti ma probabilmente anche proprio la ricerca di una riserva di valore che spinge per esempio varie persone a investire in orologi di lusso per esempio leggevo che i Rolex sono spesso proprio introvabili all'inizio solo alcuni modelli rari ma dice che in tutto il mondo adesso appunto sono difficili da trovare così altre marche molto ricercate e ovviamente di pregio. Discorso analogo avevamo visto addirittura per le figurine da collezione, oggetti collezionabili, qualunque cosa essenzialmente e questo è anche un effetto della grandissima quantità di moneta che è in circolazione, è stata inserita dalle banche centrali e poi a partire in particolare dall'ultimo anno in particolare negli Stati Uniti anche dell'immensa quantità di moneta proprio data agli americani sotto forma di stimulus checks, cioè diciamo degli assegni che consentivano di mantenere il reddito a chi non poteva lavorare e così anche enormi incentivi anche a fondo perduto alle imprese. Tutto questo però ha delle conseguenze. Avevamo visto brevemente che Ridaglio faceva un'analisi di questo e già da molti molti mesi metteva in guardia rispetto al rischio di inflazione paragonando questo periodo alla fine degli anni 30 a livello economico monetario e lui ricordava anche il meccanismo in forza del quale una inflazione anche abbastanza sostenuta, purché non troppo e non fuori controllo, in realtà è un bene per i governi, in particolare in un contesto come quello di oggi, così come quello degli anni anni 30 dopo la grande depressione e durante la seconda guerra mondiale, in cui gli stati spendevano molto, si indebitavano molto e grazie non solo ai tassi di interesse bassissimi, quindi un costo del debito minimo, ma anche grazie al fatto che la moneta perde valore e viene creata moneta, di fatto è un modo per rendere sostenibili enormi debiti pubblici o anche privati che altrimenti non lo sarebbero, quindi se nell'esempio che facciamo la moneta si svaluta per esempio in Italia del 2,5% all'anno, in Europa del 3,4%, poi c'è chi dice che queste stime sono molto molto minori di quella che è l'inflazione reale, ma insomma anche credendo a queste cifre, se però i tassi di interesse sono a zero o addirittura negativi su molti titoli di Stato significa di fatto che noi se compriamo titoli di Stato o in generale obbligazioni regaliamo noi di fatto il 3,4% ai governi, quindi si indebitano, spendono, spandono e allo stesso tempo di fatto rende il debito sostenibile rubando ricchezza reale a noi, ecco questo è il meccanismo su cui fa chiarezza Redaglio quando dice cash is trash, cioè quando dice che l'investimento in liquidità e obbligazioni non va fatto in questo periodo e tanti magari io per primo non capivamo perché uno dice ma come il mercato azionario è salito tantissimo, tutto sale, come è possibile che uno dice di non tenere liquidità e non investire in obbligazioni che sono in teoria investimenti sicuri e lui dice per questo perché comunque a parte che in caso di aumento leggero dei tassi di interesse crollerebbero probabilmente i prezzi di molti titoli di Stato obbligazioni ma comunque poi perché è una sottrazione di ricchezza costante, viceversa magari acquistare anche lui faceva l'esempio non solo azioni di tutto il mondo e in tutte le valute ma anche per esempio immobili, criptovalute addirittura lui dice di possedere in piccola parte oro, cioè diversificare e differenziare gli investimenti lui dice la protezione migliore, quantomeno perché la quantità di moneta continua a espandersi in modo abnorme in tutto il mondo e la quantità di beni e servizi rimane più o meno la stessa e lui dice esiste molta più moneta in circolazione e molti più beni finanziari in generale, quindi strumenti finanziari che potrebbero essere trasformati in moneta per comprare oggetti, di quanti oggetti, beni e servizi esistono in realtà, quindi lui dice ovvio che il prezzo per forza di cose tendenzialmente aumenta perché in realtà se mettiamo insieme tutti i beni, i servizi, gli oggetti dell'economia la moneta in circolazione è molta di più e quindi se noi volessimo trasformare improvvisamente tutta la moneta in circolazione, tutti i titoli di Stato, tutte le obbligazioni, insomma tutto, li vendiamo e ci vogliamo comprare degli oggetti non basterebbero quegli oggetti, quindi i prezzi ricollerebbero e questo ha la base dell'aumento dei prezzi un po' di tutto, è una situazione abbastanza pericolosa di cui ecco avevamo parlato ma ho voluto fare questo quadro perché penso sia importante, a questo si stanno aggiungendo tutta una serie di altri problemi legati sia alla situazione sanitaria che si è creata e che comunque continua, non finisce mai un tira e molla di misure da paese a paese, sia anche il grosso problema appunto della distruzione delle catene del valore, delle catene di montaggio, di tutta la catena anche logistica dell'economia dei trasporti che da un lato hanno determinato un grosso aumento dei prezzi e dall'altro la proprio scarsità di beni e servizi perché se diciamo ci vuole un attimo a distruggere una catena logistica poi a ricostruirla anche se tutto dovesse tornare alla normalità ci vuoliono mesi se non anni, si è visto per esempio con la crisi dei microchip perché questi microchip che mancano per esempio per un'automobile ci vuole un anno a ordinare un'automobile e a farsela consegnare perché questa crisi dei microchip non viene risolta perché spiegavano i stabilimenti per costruirli sono talmente costosi, talmente anche tecnologicamente avanzati che ci vogliono anni per realizzarli e quindi se si crea una strozzatura nella produzione, nel mercato dovuta al rallentamento, ai blocchi, alla situazione che si era creata, non è che in un attimo si decide come magari non so un coltivatore dice quest'anno il grano è venduto a dieci volte, non coltivo il mais, coltivo il grano e il mercato si riassesta. Alcuni beni servizi non lo consentono e così anche per i trasporti internazionali avevamo visto per esempio il costo di trasporto di un container aumentato di dieci volte dalla Cina all'Europa, dalla Cina agli Stati Uniti e questo si scarica sui prezzi più tutta una serie di altri problemi, rallentamenti. Tutto questo si sta unendo anche a una grossa scarsità di materie prime e in particolare materie prime energetiche e legate al cibo e questo è l'oggetto del video di oggi. In particolare vorrei partire sempre da due articoli di questi diciamo tra ieri e oggi usciti in cui si parla proprio con approfondimenti sia della crisi energetica di cui già avevamo trattato sia anche di quella alimentare evidenziando però delle tendenze future per le quali quello che abbiamo visto oggi potrebbe essere soltanto l'inizio di qualcosa di molto molto peggiore nei prossimi mesi e non è che magari lo leggiamo così un po' in quei blog un po' catastrofisti che stanno alla ricerca di click o di video magari che vogliono attirare così l'attenzione di chi lo guarda spaventandolo, sta crollando tutto, ecco il perché, cioè quelle cose un po' così, cosietti clickbait. Ma effettivamente la stesso Bloomberg ne parla facendo anche interviste ad autori autorevoli, quindi insomma a persone autorevoli del settore. Partendo dall'inflazione legata al cibo vi sono le interviste agli amministratori delegati o comunque rappresentanti delle grosse multinazionali non solo del cibo ma anche di prodotti della cura della persona, della casa, soltanto per fare alcuni nomi, la Nestlé, Procter & Gamble, Danone, Unilever che praticamente produce quasi tutto quello che abbiamo in casa e loro spiegano come l'aumento spaventoso dei prezzi che hanno avuto legato all'aumento del costo delle materie prime, costi di trasporto, costi energetici, oltre alla stessa inflazione proprio, quindi la grande quantità di moneta creata e anche l'aumento del costo del lavoro, questo anche perché comunque in molti paesi come gli Stati Uniti in particolare i grandi incentivi dati dai governi, i cosiddetti assegni hanno spinto chiaramente molte persone a non voler più tornare al lavoro, soprattutto se facevano magari lavori alienanti, usuranti, faticosi o magari se tornavano al lavoro chiedere più soldi, questo però di nuovo scaricato sul consumatore, quindi anche quello è un grosso problema. E spiegavano queste multinazionali come scaricheranno, già stanno scaricando con aumenti magari del 4, del 2, del 3%, ma scaricheranno ancora di più aumenti di prezzo sui consumatori. Può sembrare così una percentuale di poco conto, ma considerando che sono prodotti che rappresentano almeno penso la stragrande maggioranza dei consumi delle famiglie, perché comunque il cibo e gli oggetti per la casa, gli oggetti di consumo diciamo in generale, sono comunque nel complesso la parte principale della spesa soprattutto delle famiglie medie, medio basse rispetto magari appunto al reddito, un aumento del 10-12% soprattutto se si attiva il meccanismo delle aspettative per cui ci si aspetta l'aumento di prezzo, rischia di alimentare questa spirale inflazionistica molto molto pericolosa che avevamo visto, per cui non solo o si consuma di meno oppure magari si pretendono redditi più alti, stipendi più alti o comunque si rischia di scatenare quell'effetto anche di accaparramento che per esempio si è visto anche negli Stati Uniti negli anni 70 in forza del quale vi era una volontà di acquistare i beni perché si temeva che poi sarebbero aumentati di prezzo, questo lo vediamo in tante economie anche attuali distrutte dalla iperinflazione addirittura, ma senza arrivare a quello comunque questo meccanismo delle aspettative nell'inflazione è molto 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 pericoloso e rischia di partire appunto perché le stesse società non ne fanno più mistero e anche perché si scrive sempre nell'articolo il fatto che comunque aumentato il reddito disponibile mediamente soprattutto negli Stati Uniti ma in parte anche in Europa in certi ambiti delle persone, delle famiglie e soprattutto dovuto all'aumento dell'effetto ricchezza con gli strumenti finanziari che aumentano di valore, il prezzo degli immobili che aumenta eccetera e quindi tutti ci sentiamo più ricchi se li teniamo quei beni, tutto questo fa sì che le imprese scaricano anche più volentieri il costo perché sanno che comunque i consumatori continueranno a consumare ma rischiando di alimentare appunto questa inflazione e questo è molto interessante ma allo stesso tempo pericoloso perché nell'articolo si evidenzia come nei paesi oxe quindi quelli diciamo più sviluppati in teoria ma comunque ambito molto più largo per la prima volta negli ultimi a meno qui dal 2011 vedo l'inflazione media superato il 4% è interessante il picco che c'è stato soltanto nell'ultimo anno questo che spaventa sarà il grafico poi metterò l'articolo in descrizione potete magari vederlo meglio ma siamo passati da un'inflazione media dello 0,5 6% appunto nei primi mesi del 2020 a oltre il 4% da qui si vede 4,3 così nel giro di poco più di un anno una curva verticale mentre più o meno l'andamento negli anni precedenti era abbastanza costante e qui si evidenzia appunto come diciamo citando quello che diceva per esempio l'amministratore delegato di Unilever una mega multinazionale dice noi siamo in un contesto inflazionario inflazionistico che diciamo vi è normalmente una volta ogni due decenni addirittura ne parlano loro in questi termini smettendo loro di fatto quello che dicono i governatori delle banche centrali che cercano chiaramente sempre di dare fiducia di allentare e che probabilmente hanno le mani legate nella politica monetaria perché sanno che anche un minimo aumento dei tassi di interesse farebbe crollare tutta così la piramide di debito pubblico immenso che consente ai governi di indebitarsi gratuitamente addirittura con tassi negativi mercati molto molto elevati come prezzo soprattutto quelli azionari ma anche quelli delle obbligazioni basterebbe poco per far crollare tutto e questo spaventa probabilmente ma allo stesso tempo mantenere questa immensa produzione di moneta creazione da nulla di moneta per esempio negli Stati Uniti 120 miliardi di euro al mese di dollari scusate al mese per dire la quantità immessa di che proporzioni si parla rischia a un certo punto questo è anche solo rallentare questo aumento della moneta rischia di far crollare tutto quindi ecco una situazione potenzialmente molto pericolosa ed attenzionare venendo invece l'altro articolo parla sempre dell'aumento dei prezzi delle materie prime energetiche ma sollevando un problema ulteriore e per certi versi anche un po più inquietante rispetto al semplice aumento dei prezzi di beni e servizi ma proprio la scarsità di beni e servizi che riguarda anche il settore alimentare si è visto per esempio nel Regno Unito stanno girando foto di supermercati con gli scaffali vuoti un po' come magari quelle immagini che venivano dal Venezuela o dall'Argentina e anche in paesi molto sviluppati sempre per queste dinamiche più problematiche nei trasporti nel costo di trasporto catene logistiche lì poi in particolare anche mancanza proprio di guidatori di camion comunque si è creato un problema per cui non arrivano proprio i beni sugli scaffali non è un problema di prezzo proprio c'è una scarsità di beni e servizi e questo ha anche spaventato per chi ha fatto vedere come fragile la catena logistica globale e questo fa ritenere molti il fatto che si passerà in futuro sempre di più da un approccio globale globalizzato a un approccio più possibile locale anche se magari meno efficiente nei costi ma più affidabile e stabile nel rischio che questa catena non si inceppi da qualche parte. Venendo appunto al problema invece delle fonti energetiche un altro articolo di Bloomberg e anche questo lo inserisco in descrizione che parte da interviste autorevoli personalità insomma sempre nell'ambito ecco non è solo così la ipotesi del giornalista parla proprio addirittura di un possibile blocco addirittura delle esportazioni di materiale di elettricità o anche di così materie prime energetiche anche all'interno dell'Europa cioè si dice in caso di inverno freddo vista la grande scarsità di gas di petrolio proprio di riserve in particolare di gas nei paesi europei e la grossissima dipendenza che molti paesi in particolare la Germania hanno dalle importazioni estere parliamo che la Germania deve importare il 90 per cento del gas che consuma potrebbe far sì che tutto questo nei prossimi mesi rischierebbe di determinare o addirittura proprio rischi concreti di blackout elettrici o comunque razionamenti per esempio nell'utilizzo del gas o comunque magari i politici questo lo dice in particolare l'amministratore delegato di snam intervistato dice che ci sarebbe il rischio in Europa anche proprio che alcuni paesi se hanno scarsità di diciamo energia in tutte le sue forme possano decidere di interrompere le esportazioni utilizzare quell'energia elettrica o quel gas all'interno dei confini per garantire ai propri cittadini appunto un inverno al caldo o comunque in condizioni non di bisogno rischiando però di mettere e compromettere tutta la catena europea di basata così sul principio di solidarietà europeo in forza del quale va condiviso tutto quindi anche l'energia elettrica materiali eccetera se un paese ha di più condivide con quello che ha di meno e questo sarebbe anche un principio giuridico a livello europeo che tuttavia le persone intervistate dichiarano potrebbe venire meno per ragioni politiche se continua questa situazione di grossa scarsità di gas e di grossa scarsità anche di energia elettrica l'avevamo visto sul video della crisi energetica non sto a rivedere diciamo a ripetere le cause ma ecco comunque interessante perché evidenza in particolare l'articolo come anche a livello proprio europeo le riserve di gas accumulate sono molto più basse della media solitamente con cui si affronta l'inverno e questo già diciamo ci fa partire in una condizione di svantaggio inoltre l'aumento spaventoso dei prezzi delle materie prime energetiche ha fatto sì che alcuni paesi soprattutto quelli più diciamo tra virgolette poveri dell'europa potrebbero non permettersi cioè andare in blackout o comunque in in condizioni di scarsità non perché magari non hanno accesso da parte degli altri di quell'elettricità o di quel gas o petrolio che sia ma perché magari i prezzi potrebbero a un certo punto diventare talmente alti sempre a causa della scarsità per cui non possono permettersi quindi ci sarebbero due fattori uno il possibile rischio proprio di blocchi nelle esportazioni per cui ogni paese mantiene per sé le risorse che ha e non le condivide due il rischio che comunque il prezzo sul mercato che va alle stelle di fatto comunque impedisce ad alcuni paesi di potersi permettere quelle risorse anche magari potendo avere accesso tutto questo ecco una situazione pericolosa soprattutto se l'inverno l'inverno sarà particolarmente freddo e non solo per le persone che ovviamente devono scaldarsi ma anche per tutto l'apparato industriale dei vari paesi che potrebbe venire compromesso in particolare si è visto già in cina per esempio il governo ha imposto agli stabilimenti che consumano più corrente ad esempio quelli metallurgici dell'alluminio di ridurre la produzione magari ridurre la l'utilizzo in certi orari più di punta o addirittura i stessi cittadini quest'estate per esempio di tenere l'aria condizionata non troppo fredda e così via e qui c'è questo rischio anche in Europa quindi è una situazione anche questa da tenere molto molto in considerazione e quindi ecco dopo inserisco gli articoli potete magari leggerli tradurli meglio per maggiori dettagli sono interessanti perché hanno tutta una serie di grafici di numeri specifici da paese a paese quindi danno un quadro generale cosa fare questo caso come avevo già anticipato all'inizio del video non c'è una risposta univoca intanto non dico comprare sul mercato eventualmente materie prime con etf quello già l'avevo eventualmente suggerito se uno ritiene che i prezzi aumenteranno ancora ma va detto anche che sono aumentati tantissimo nell'ultimo anno quindi sarebbe comunque rischioso ma in ogni caso se non parliamo più solo di aumento del prezzo di infrazione ma proprio di scarsità di beni e servizi potrebbe essere forse importante almeno una piccola parte diciamo metterli da parte quindi magari cibo magari oggetti di uso quotidiano fino anche chi magari organizza la propria casa chi magari ha un appartamento non può farlo ma chi per esempio magari ha una casa indipendente può anche pensare per esempio di acquistare per esempio pensare impianti per l'autosufficienza o comunque diciamo di supporto elettrico non parlo soltanto eventualmente di un impianto fotovoltaico che comunque costa tanto ma magari anche per esempio comprare quei generatori portatili a benzina insomma quello che sia per dare così elettricità in caso di emergenza oppure magari chi ha un camino a legna magari anche quelli termici che scaldano casa tutta una serie di oggetti che magari possono sembrare anche del passato io conosco persone che hanno la stufa hanno comprate quelle vecchie stufe propria legna in cui si mette la legna dentro cucina e scalda la stanza possono sembrare cose ecco dei film del passato dei racconti non sono i dickens in realtà sempre più persone le stanno utilizzando quindi non non è diciamo abbiamo parlato per l'autosufficienza alimentare anche di di orti per esempio però c'è sempre un ritorno più verso se possibile l'autoproduzione o comunque avere qualcosa da parte in caso di emergenza poi magari non succederà ma come si dice non costa nulla se uno magari ha da parte un po di oggetti di cibo comunque a un camino comunque a un orto male non fa anche se poi al supermercato troveremo sempre tutto va detto anche che l'italia da questo punto di vista almeno alimentare è forse un paese messo meglio di altri anche climaticamente e forse anche grazie all'abitudine che noi abbiamo negli orti ma sicuramente comunque per quanto riguarda in materie prime energetiche eccetera potrebbero esservi anche proprio dei problemi di approvvigionamento un esempio ci fu negli Stati Uniti nei primi anni 70 razionamenti eccetera quindi non è una prerogativa dei paesi poveri come noi pensiamo tutt'altro e fatemi sapere cosa ne pensate ecco sono un po così aggiornamenti e riflessioni come sempre vi invito ecco qui sotto magari a commentare a scrivere quello che ne pensate anche suggerimenti in particolare su come proteggersi come far fronte a questi rischi sempre più concreti vi ringrazio e vi saluto ciao a tutti